Si dici qualcosa su Kamada, Isaacsen, Kassegianos Kamada l'intesa è sembrata già abbastanza buona Che differenze ci sono rispetto a Milinkovic? Buon primo tempo con Kamada che è partito titolare Che ha fatto vedere di avere qualità Complimenti Kamada, mi è piaciuto nel palleggio, nella gestione del pallone Si è vista una cosa molto importante con Milinkovic fuori Ciao a tutti, questa è prima volta di Kamada l'antica partecipata сделали questa sera di Theta, la слuncia della L'antica delle desembarasse qualità di produzione il ondergrate di L'antica, e anche sono Chiamamada l'artuzione, di brazil scrivere la esperienza e come Ourstiti Kassa e la regio di 2013 e abbiamo trovato un'interview di Rizca. Oggi, la chica-la, della rota della cartella è stato un'interview di La Rizca, è stato un'interview di Rizca di Rizca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.